Buonasera e ben trovati appuntamento con RTTR Volley, trentatresima puntata, mancano esattamente sei giorni alla finale, domenica alle 21 saremo tutti con gli occhi incollati sul campo di Lubiana, nel frattempo in questa settimana si è chiusa anche la Superlega con la vittoria di Civitanova, con il suo terzo scudetto consecutivo ai danni di Perugia, di tutto questo parliamo con il mister Angelo Lorenzetti. Buonasera. Ben tornato, come state? Anzitutto mancano sei giorni, si fa sentire un po' la pressione per questo importante evento. È come è giusto che sia, siamo dovuti stare un po' in equilibrio tra l'attesa e la pressione, è stato un equilibrio individuale che in quasi tutti gli elementi ha portato comunque a un buon impegno. Vediamo adesso quando stai lontano così tanto dalle partite si perde un po' il posto della situazione, però insomma quello che noi potevamo fare fino a questo momento qui l'abbiamo fatto, cioè adesso sono rimasti gli ultimi giorni di allenamento e poi dopo vediamo a Lubiana di spararla tutta e vedere come va. L'altra formazione è lo Zaxa, insomma la vostra avversaria invece ha continuato a giocare quindi arriverete con due condizioni un po' diverse forse nella preparazione? Sicuramente sì, è chiaro che loro il ritmo di gara ce l'hanno, dopo bisogna vedere la situazione fisica perché se è in buone condizioni fisiche sicuramente questo avvicinamento è un avvicinamento migliore, se invece ci sono delle situazioni critiche come avevamo noi appena finito gara 5 con Civitanova allora c'era la necessità di recuperare perché altrimenti non si sarebbe arrivato in fondo. Stanno già arrivando i primi messaggi per il mister, vi ricordo il whatsapp è il 339 466 0076, guardando invece in casa nostra mister abbiamo visto i ragazzi un po' ovviamente stanchi 51 partite mentalmente, fisicamente, avete avuto in questo caso voi il tempo di riposarvi e questo è l'aspetto positivo di essere stati sì, sono situazioni nuove, noi le abbiamo già vissute lo scorso anno ma non sono programmazioni che tu hai già frequentato da più volte, in questa situazione c'è la normale esigenza dei ragazzi di staccare però il dover riprendere, noi ripeto abbiamo finito il campionato con il serbatoio sicuramente scarico le energie e quelle le abbiamo recuperate, peccato perché comunque il livello di gioco era molto buono e tre settimane lontano da quel livello lì insomma è difficile mantenerlo quindi è importante che noi scendiamo in campo a Lubiano senza tante aspettative di vedere come giochiamo, dobbiamo giocare attaccati al punto e poi provare a crescere durante il match. È vero che è una partita però insomma una finale di Champions, tanti ragazzi non l'hanno mai giocata sicuramente, poi c'è chi ne ha giocato più di una quindi… Sì sì, questo qui infatti si ricollega un po' al discorso che facevo prima, quello del stare nel giusto equilibrio tra l'attesa e darsi la pressione. Ci sono giocatori che ne hanno giocate parecchie, qualcuno ha anche vinto e quindi hanno un'esperienza maggiore anche se un periodo così non l'ha vissuto mai nessuno, così lontano dalla gara per fare una finale. Altri invece che è la prima volta e alla fine dopo Lubiana ognuno farà a livello individuale i suoi conti di come si sarà sentito e quindi delle cose che vorrà tenere, quelle che saranno da buttare nel cestino. Mister faccio subito la domanda, tanto te l'avranno già fatta mille volte, quanto c'è lo spettro della finale dell'anno scorso? Visto che è anche capitato che è la stessa avversaria purtroppo, o per fortuna, insomma può essere uno stimolo. Lo spettro non c'è perché noi che eravamo in campo sapevamo chi affrontavamo. È stata una partita intensa, hanno vinto loro meritatamente, ma tu lo spettro ce l'hai quando sai che non fai qualcosa estremamente fatto bene. La partita, come ho detto più volte, è stata sul filo del rasoio, sul filo del cambio palla e quindi insomma non c'è né senso di rivalsa né un'ansia particolare. C'è la volontà di essere protagonisti in un'altra finale che non è da poco. Allora andiamo subito in palestra perché siamo venuti a trovarvi ieri durante l'allenamento e sentiamo cosa ci hanno detto alcuni dei ragazzi. È partito il countdown decisivo in vista del 22 maggio, quando all'Arena Stozice di Ljubljana in Slovenia, la Trentino Itas giochera la sua sesta finale di Champions, trofeo che Trento ha già vinto tre volte, a Praga nel 2009, a Ugg nel 2010, a Bolzano nel 2011. Si tratta per la società di Via Trainer della quattordicesima finale internazionale in 22 anni di attività. Ci stiamo preparando bene, secondo me. Stiamo facendo dei blocchi di allenamento abbastanza intensi per recuperare un po' la forma fisica e anche quella tecnico-tattica. Sono contento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e niente, aspettiamo questa finale con ansia. La pressione un po' sta iniziando a salire, la iniziamo a sentire, però è una roba bella, è una cosa bella. L'avversario è la formazione polacca dello Zaksa, squadra che oltre ad essere la stessa della scorsa edizione, quella che strappò a Trento la gioia della vittoria, si è nelle scorse ore laureata per la decima volta campione di Polonia. Si inizia a sentire che mancano solo sette giorni, il livello in allenamento e l'intensità del gioco sta crescendo e stiamo preparando al massimo delle nostre possibilità per arrivare a Ljubljana pronti e sfidare questa grande squadra che ieri l'ha dimostrato anche nel campionato polacco. Quindi le sensazioni sono sicuramente positive e non vediamo l'ora di arrivare a Ljubljana per preparare questa finale. La squadra, che ha a sua completa disposizione il palazzetto per tutta la settimana, si allenerà fino a giovedì alla BLM Group Arena, partirà poi alla volta della Slovenia nella mattinata di venerdì. A seguire la Trentino Itas anche un bel gruppo di tifosi dal Trentino, oltre 500, quelli che saranno all'Arena Stoddice di Ljubljana. E partirai proprio da quest'ultima nota perché è arrivata una domanda da parte di Concetta che ti chiede se ti saresti aspettato una partecipazione così numericamente importante per questa finale e che cosa vorresti modificare, cosa ti piace invece del tifo degli orsi trentini? Tanto dentro questa domanda. Non mi piace stare nell'aspettativa perché è quasi un chiedere, ai tifosi non si chiede, c'è la speranza di vivere insieme con quelli che ci saranno, dicono che sono in parecchie, di questo comunque siamo soddisfatti anche perché la finale dello scorso anno da questo punto di vista qua è stata limitante perché fare una bella finale come quella dello scorso anno senza pubblico è veramente un qualcosa di non gradevole e questo comunque sarà un qualcosa già in più, questa vicinanza con i nostri tifosi rispetto all'esperienza dello scorso anno e chi c'è ne godrà. Ci sarà anche il tifo ovviamente avverso, quello dei polacchi? Chiaro, di solito sono capaci di riempire buona parte dei palazzetti, però sono convinto che i nostri trentini faranno sentire alla squadra il calore e la vicinanza che abbiamo avuto soprattutto in quest'ultima parte del campionato. Visto che parliamo spesso di questa squadra giovane e anche sorprendente da certi punti di vista, quanto li hai visti crescere in questi mesi sia a livello di tecnica che anche a livello personale questi ragazzi? Non so, come sempre durante le stagioni c'è un rendimento costante, è un po' come l'apprendimento che non è una retta ma una scala, quindi anche quest'anno non ha fatto eccezioni, ci sono stati dei momenti secondo me molto buoni, dei momenti un pochettino di stanca e nell'ultimo periodo secondo me i ragazzi hanno fatto uno step dopo la Coppa Italia, l'essere arrivati in finale, aver approcciato così poco bene e poi dopo essere arrivati vicino al T-Break secondo me è stata una spinta per rifare uno step che dopo nei play-off hanno dimostrato perché sono stati vicini, hanno conquistato questa finale e soprattutto sono stati vicini a una grande formazione come quella di Civitanova. Ecco a proposito della Superlega diciamo che ha dimostrato quanto sia di altissimo livello e quanto Trento sia stata brava a battere nelle prime due partite Civitanova che poi è andata a prendersi lo scudetto ribaltando la situazione. Sì sì infatti adesso bravo io non lo so però insomma io non abbiamo terminato quella gara 5 delusi anzi e soprattutto per la tipologia di gara 5 che abbiamo impostato e personalmente insomma con lo staff con Bruno è da tempo che già dalla Coppa Italia che dicevo che Civitanova aveva le probabilità più alte di vincere questo campionato perché quando in un'annata come quella che è capitata loro c'è diciamo l'ingrediente è che tanti giocatori bravi ma infortuni, difficoltà, è una società che tiene botta con poche chiacchiere e molta vicinanza quei giocatori una volta che si riprendono hanno una forza in più, a me è capitato due volte a Modena e a Piacenza e soprattutto in quel periodo in cui mancano dei giocatori importanti le gerarchie un po' si scombussolano e si creano nuove gerarchie e nuove forze e i giocatori che stanno fuori questo lo vedono e quando entrano c'è una fiducia reciproca ancora più alta e questo è quello che è capitato a Civitanova. Noi sapevamo in questo caso rispetto invece alla finale di Champions di avere più ritmo di loro perché noi avevamo fatto tutto il percorso di Champions e anche il nostro quarto era stato più complicato per la forza di Piacenza rispetto a loro. Ci eravamo detti di provare a sfruttare l'avvio, l'abbiamo fatto, poi sapevamo che ci sarebbe stato un momento in cui loro avrebbero tirato fuori le unghie, in gara 3 dove qualcosina da perdonare, in termini di approccio ce l'abbiamo, poi dopo ci siamo rimessi lì a rincorrere come tutto l'anno, a stare attaccati e attaccati già da gara 4 e gara 5, secondo me i ragazzi hanno fatto una partita di personalità molto alta e al di là insomma di quello che possono essere giudizi di altri perché andare giù, si è visto in gara 4 in finale, cos'è Civitanova, cos'è quando una società e un pugno di giocatori molto forti sentono il momento, loro lo sentivano ma noi eravamo andati giù con la volontà di non farci sbranare e ci è bancato un poco perché invece fossimo noi il lupo e il loro capocetto rosso. Ecco a proposito di tutta la stagione ti chiede nonno Herman se c'è un rammarico per qualche risultato o per qualcosa di tecnico che magari ti aspettavi dalla squadra e non è arrivato? No, no, assolutamente no, anzi magari sempre, magari sempre perché credo che questa stagione ci sia stata l'incastro di tante cose che a volte si incastrano in maniera diversa, vale a dire abbiamo avuto un avvio buono e questo l'avvio non è che si costruisce tanto perché i ragazzi arrivano all'ultimo momento e questo sicuramente crea autostima, abbiamo avuto degli infortuni ma non abbiamo avuto dei momenti importanti o non per lunghi periodi e poi nelle partite decisive i ragazzi hanno sempre espresso un buon livello e questo penso che non sia ripetibile ogni anno, al di là della volontà di ripeterlo ma non è replicabile sempre ogni anno perché le cose, i momenti non si incastrano sempre nello stesso modo. Ecco ti chiedono anche che importanza hanno in squadra giocatori per esempio come resta che ha avuto che giocano magari molto meno però insomma hanno il loro ruolo. Tantissimo, adesso è stato quello che voleva essere, che voleva fare dall'inizio dell'anno, ci siamo parlati, lui voleva essere un elemento molto importante nel nostro gruppo, ci siamo detti che per essere bisogna fare tante volte le stesse cose fatte bene, lui ha cominciato la prima volta, ha condiviso questa sua motivazione, questo suo desiderio con i giocatori più esperti che hanno approvato e in questo ruolo lui ha trovato una dimensione caratteriale, mentale secondo me importante che lo hanno fatto crescere anche dal punto di vista tecnico e penso che Oreste anche con questo rinnovo che è stato celebrato pochi giorni fa insomma si sia ritagliato una strada in questo ambiente della Trentino Volle. Ce l'ha detto anche Daniela Lerbrigati che abbiamo ospitato qui la settimana scorsa insomma giocare in squadre di questo livello con allenatori come te e con giocatori anche come Mattei Katzischi, Podraszani fa crescere comunque sicuramente anche. È chiaro, dipende come uno poi le aspettative, le motivazioni con cui inizia, no? È ovvio che non giocare o mai o pochissimo è un qualcosa che per un giocatore è difficile da mantenere per molto tempo, però è vero anche che nell'arco di una carriera il gioco a volte c'è e a volte c'è anche l'esigenza di essere curioso e andare a frequentare degli ambienti con dei giocatori che magari da titolare tu non potresti toccare, no? È secondo me una curiosità importante perché stare vicino, vivere in certi ambienti e stare vicino a certi giocatori al di là del miglioramento giornaliero quotidiano ti lascia un qualcosa che altri ambienti non ti possono regalare. Se tu li sai ascoltare sicuramente finisci la tua carriera con un qualcosa di più e che poi puoi spendere anche nel momento successivo al momento dell'abbandono della carriera agonistica. Ecco, torniamo alla finale di Champions, andiamo a sentire che cosa ci ha detto anche il team manager Riccardo Micheletto. L'avversario lo conosciamo, lo Zaxa, tra l'altro ieri ha vinto una bellissima partita anche fuori casa 3-0 e si è laureato campione di Polonia, non so, penso per la decima volta, ecco, quindi è una squadra di tutto rispetto. Noi ci stiamo preparando al meglio, abbiamo avuto tanto tempo, 20 giorni, non eravamo magari tanto abituati a questo ma si fa di necessità virtù, quindi la squadra ha potuto un po' così anche scaricare tutte le tossine, la stanchezza delle finali, dei play-off, ripartire, ricaricarsi. Lo staff penso che abbia dato veramente il massimo, siamo tutti a disposizione della squadra, dei giocatori e poi vogliamo affrontare questo appuntamento importante con la massima serenità e sperando che vada tutto bene. È un mix, c'è chi ha già fatto tante partite, come Mattei, il nostro capitano, c'è chi l'anno scorso era in squadra e ha provato questa esperienza, c'è chi anche la prima volta, quindi tante volte anche il fatto così di affrontarle per la prima volta magari potrebbe dare anche quel qualcosa in più, quella voglia in più perché veramente bisogna trovare tutte le energie possibili e immaginabili, la partita è molto attesa e veramente la squadra è molto forte, magari noi ci consideriamo degli outsider, siamo giovani, siamo però comunque determinati, vogliosi e speriamo bene. Rispetto all'anno scorso a Verona dove abbiamo avuto la possibilità di fare una finale di Champions League proprio vicino casa e però giocare in quel palazzetto vuoto era veramente un po' strano. Questo è un evento veramente di primissimo livello. La CEV ha un'organizzazione bellissima, grossissima, ci saranno penso 12.000 persone all'arena di Lubiana, è un evento proprio bello perché si respira la pallavolo di alto livello con la finale femminile prima, la finale maschile poi, insomma quindi bello e giocando davanti al pubblico la risposta dei nostri tifosi della città di Trento è stata importante perché vengono più di 500 persone a seguirci, quindi siamo molto contenti di questo. Sentiamo anche la responsabilità ma la vogliamo giocare serenamente con lo spirito della squadra giovane. Ecco purtroppo il tempo come sempre stringe, mister solo due cose, insomma venerdì partite Slovenia, poi ci sarà sabato per prepararsi, domenica questa attesissima finale. Punti deboli questa squadra dove cercherete di entrare? Ma è proprio lì perché di punti deboli non ne ha e questo non è perché è una squadra imbattibile, ma è una squadra molto equilibrata, la stregua della squadra dello scorso anno. Quando si parla di queste squadre straniere noi italiani abbiamo difficoltà a metterli in etichetta e chiediamo a qualche squadra di italiani, parli di Perugia e dici 29 è una squadra forte, quando parli delle altre squadre straniere parli di squadre di tutto, siamo brave, però questa è una squadra forte, è una squadra forte, è una società forte che vince da cinque anni, che sa programmare, che nei pochi insuccessi che ha avuto come lo scudetto dello scorso anno che aveva quasi in mano è andata avanti tranquilla, ha fatto anche una piccola rivoluzione, passano allenatori, passano giocatori ma lo Zasca è lì da tanti anni e quindi noi più che cercare i loro punti deboli dobbiamo cercare di stare presenti e di fare più cambi palla possibili e cercare di portarli vicino al 20 più volte possibile per cercare poi nel rush finale con una giocata di un singolo o con una battuta o con una scelta di muro difesa di strappare un set dopo l'altro. Bene, grazie mister, io ti saluto con il messaggio di Mauro che dice che anche chi non potrà esserci di persona sarà lì con voi a bordo campo a incitarvi a soffrire con voi. Grazie, noi li portiamo con noi già dal viaggio da Trento Lubiana. Bocca al lupo. Creppi, creppi. E noi invece andiamo a vederci, salutato mister Lorenzetti, com'è andata a gara 4 quella che ha segnato lo scudetto a Civitanova. Terzo scudetto consecutivo per Civitanova che dopo essersi portata sul 2-0 nella serie contro Perugia ha perso gara 3 al Palabarton ma non ha fallito la seconda occasione per chiudere la serie, riuscendo così nell'ambito a impresa di vincere la Coppa in casa propria. Gara 4 si è rivelata una partita a senso unico con oltre 4.000 tifosi a fare da traino a Simone e compagni. La Sir non è mai davvero riuscita ad incidere sull'andamento della partita. Finisce 3-0 con parziali al 23, al 16, al 21. Civitanova ha trovato 12 muri punto e 5 ace a completare una partita che ha girato bene in generale in attacco con 44% di squadra. Top scorer Ivan Zaitsev che ha chiuso con 13 punti, premio MVP della serie di finale invece al centrale Simone, capitano in campo a causa della defezione di Osmani Guantorena. Per i bianco-rossi è il settimo titolo italiano e il terzo consecutivo, 25 in totale i trofei in bacheca. Allora facendo i complimenti a Civitanova, noi ci fermiamo, arrivano tante domande anche extra finale di Champions, statele lì perché ci rivediamo anche lunedì prossimo, ore 21, sempre qui su RTTR. Andremo ovviamente in Slovenia a seguire questa finale e cercheremo di raccontarvela anche con il retroscena, sperando di dedicare un bello speciale. Ora invece andiamo a rivedere la partita giocata il 2 gennaio, quella valida come quinta del girone di ritorno di Regular Season vinta in casa da Trento contro Perugia per 3 a 2. Buona settimana a Forza Trento.